Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti alla rassegna stampa quotidiana di TVRS, una giornata caratterizzata dalla cronaca a partire dalla tragedia di ieri sera poco prima delle 22 di cui ritorniamo soltanto per un attimo alla stazione di Porto Sant'Elpidio dove un uomo è stato travolto da un treno e si sta lavorando per cercare di capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Parleremo anche dell'intervento dei geologi delle Marche dopo il sisma di Marradia di ieri con il culmine della scossa di 4.8 che conferma un po' i rischi di tutta l'area penninica anche se non c'è alcun collegamento con i nostri tragici eventi del 2016. C'è poi l'enorme riscontro con circa 20.000 firme alla petizione lanciata per salvare dalla vendita la casa a San Tommaso di Fermo della scrittrice partigiana e medaglia d'argento al Valor Militare Joyce Lusma. Mi presento subito l'ospite di questa sera che è l'Avvocato Giancarlo Giulianelli. Buonasera Giancarlo. Buonasera, buonasera. Garante delle Marche per i diritti alla persona. Un incarico ottenuto dal Consiglio regionale nel febbraio del 2021 e che diciamo si articola in tre uffici fondamentali. Vi vogliamo illustrare con il dono della sintesi sempre per Carlo? Innanzitutto come mi occupo della difesa civica, poi andremo a dire cos'è questa difesa civica. Mi occupo, sono il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei minori dell'infanzia e dell'adolescenza. Mi occupo anche delle discriminazioni e delle vittime di reato. Allora, diciamo che molte volte per sintetizzare questa lunga dicitura si utilizza una parola che è un buzzman, una parola strana, che io so che è svedese, che sostanzialmente vuol dire proprio sintetizzando al massimo tutela e garanzia della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino, è corretto? È corretto, nasce proprio dalla Svezia questa figura, poi è stata importata in altri paesi tra cui l'Italia, ricordo il difensore civico comunale come istituzione, poi furono aboliti per l'istituzione del garante civico regionale. Esatto. Quanto la tua figura è conosciuta tra i cittadini e a chi si rivolge e quali sono anche un po' le richieste più frequenti? Diciamo conosciuta pochissimo perché, devo dire anche io, confesso che non ho mai avuto a che fare con il garante dei detenuti, avendo fatto io e imprestato l'avvocato penalista. È conosciuta poco e naturalmente quello di cui si occupa è, per quanto riguarda la difesa civica, la questione preponderante è quando un soggetto richiede l'accesso agli atti da parte della pubblica amministrazione, e questo gli viene negato, può rivolgersi gratuitamente, tra l'altro un servizio gratuito, al garante che può imporre alla pubblica amministrazione il rilascio di quegli atti quando è stato negato l'accesso. Questo per quanto riguarda la difesa civica, per quanto riguarda invece i minori, mi occupo naturalmente delle questioni che riguardano i minori, i minori stranieri non accompagnati e i minori in genere, ultimamente, devo dire con piacere, evidenzio sempre un dato, che anche nelle situazioni di forti disagi familiari, le liti, i divorzi, le separazioni, l'ufficio del garante può intervenire svolgendo quella che è un'azione di moral suasion, diciamo, non ho la possibilità di interloquire nei provvedimenti, però naturalmente l'ufficio del garante, che si compone per quanto riguarda l'ufficio minore, abbiamo due psicologhe, una detta, quindi riceviamo le persone, le stiamo ad ascoltare e vediamo quando intervenire e se intervenire. Allora, proprio per chiarezza, diciamo preliminarmente che è un servizio che la regione offre al cittadino e questo è un aspetto che forse a molti sfugge. Ed iniziamo un po' a leggere le notizie, abbiamo detto di questa tragedia, la stazione con il giovane ucciso dal treno in corsa, lo prendiamo proprio dal nostro portale utvrs.it, dramma nella serata di ieri a Porto Sant'Elpidio, dove un 35enne di San Benedetto è stato investito da un intercity inquirenti all'opera. La persona che ieri sera torna alle 21.30 e è morta alla stazione di Porto Sant'Elpidio è un uomo italiano, giovane, di circa 35 anni, residente a San Benedetto. L'uomo è finito sotto ad un treno che transitava a tutta velocità, un intercity la cui fermata non era prevista in città. E come abbiamo detto in apertura, c'è da capire la matrice del dramma, per questo gli inquirenti ed in particolare i carabinieri sono al lavoro. Da una prima ricostruzione sembra che il 35enne non si sia lanciato contro il treno in corsa ma stesse attraversando i binari. L'uomo aveva con sé una bicicletta. E come detto, quindi, praticamente dovrà ancora essere fatta piena luce su questo episodio di cronaca. E restiamo alla cronaca con una notizia di oggi. Una Iesina fa il bonifico ad un utente ma in cambio arriva solo la foto dei tagliandi, denunciato un giovane di Biella con precedenti. Voleva andare a Bologna per vedere il Milan, i soldi in campionato dei rossoneri al Dallara. Tra l'altro era arrivata una bella vittoria a fine agosto ma il progetto è naufragato ed anzi è stata truffata vittima una donna Iesina che al momento di comprare i biglietti è stata raggirata da un giovane biellese di 23 anni denunciato dagli agenti di polizia anconetani. La vittima, poi c'è tutta la cronistoria del fatto, appunto aveva provato ad acquistare i biglietti per questa partita ma si trattava soltanto di una truffa. L'allegato non era altro che un'immagine e non il file del biglietto e di truffe. Insomma parleremo diffusamente anche in altre occasioni perché diventano sempre di più all'ordine del giorno. Per quanto riguarda invece il sito cronachamaceratesi.it aggredisce mamma e nonna, scappa dal reparto di psichiatria, un 23enne è stato arrestato, si allontana. Ci informa cronachamaceratesi dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Macerata, ritrovato nei pressi della stazione di Piedilipa dai carabinieri, è arrestato il 23enne che una settimana fa sotto effetto di droghe aveva aggredito la mamma e la nonna e nelle immagini di cronachamaceratesi vediamo anche un'immagine appunto del carcere di Ancona. Ed allora questo ci introduce ad un argomento di questa trasmissione con Giancarlo Giulianelli perché all'inizio di questo mese c'è stato un report molto interessante sulla situazione delle sei carceri marchigiane, ossia Villa Fastigi, Montacuto, Ancona Barcaglione, Fossombrone, Fermo e Marino del Tronto. Partiamo dal problema dei problemi che è forse quello del sovraffollamento, no? Problema notissimo, 877 detenuti su una capienza regolamentare di 835. Ti faccio subito una domanda un po' attorno alla quale ruota tutto il problema. Per determinati tipi di reati ovviamente il carcere ha alternative? Ah, sicuramente ce l'ha. Il carcere per tutte le tipologie di reato c'è un'alternativa per la verità. Basta saperla trovare e volerla trovare. Il problema è che molto spesso per una serie di circostanze che non dipendono solo dalla magistratura, sia ben chiaro, questa alternativa non può essere trovata. E quindi ci troviamo con questo problema del sovraffollamento. Ripeto, è un problema che però non riguarda solo la mancata concessione delle misure, è un problema che riguarda anche la posizione del detenuto, perché il detenuto anche deve partecipare all'attività dell'erogazione con un certo spirito. Poi naturalmente c'è un eccessivo, questo sì, posso dirlo, ricorso per quanto ci riguarda alle misure cautelari. Stiamo parlando di soggetti. Nelle Marche siamo al 22% dei detenuti che sono in attesa di sentenza definitiva contro una media nazionale del 25%, che non ci consola, ma è un dato comunque estremamente alto, quasi un detenuto su quattro in attesa di sentenza definitiva. Ecco, su questo occorrerebbe fare una riflessione, tenuto conto che le misure cautelari, custodiali, in questo caso in carcere, vengono combinate quando ci sono delle particolari esigenze. L'esigenza principe per la quasi maggioranza delle persone è quella della cosiddetta pericolosità sociale. Nelle Marche sono circa 190, un po' meno di 200, coloro che sono in attesa di una sentenza definitiva e mi sembra un po' strano che tutti e 200 siano socialmente pericolosi. Si può agire, secondo te, a livello normativo, come sostiene qualcuno, a proposito di misure alternative, per esempio accentuando il ricorso alle sanzioni pecuniarie? Diciamo che la Cartabia ha ampliato lo spettro di applicabilità della misura, in questo caso, pecuniaria che mi dici tu. Peraltro è una misura che da sola, qui poi si scontrano delle teorie, delle visioni anche politiche diverse. Io dico che la misura pecuniaria è una delle forme di sostituzione della misura detentiva, per carità, tra l'altro prevista nel 1981 con la 689 e l'81. La Cartabia ha ampliato la possibilità di applicazione e ha anche consentito una gradualità nel considerare il giorno di detenzione dal punto di vista economico. Quanto vale un giorno di detenzione? Prima era stabilito in ordine a 250 euro al giorno, adesso la Cartabia ha previsto un ampio spettro che va da 5 euro a 2.500 euro al giorno. Quindi con una ampia possibilità per il giudice di scegliere la misura più adeguata. Sotto questo profilo, però, rispondendo alla tua domanda, secondo me è una forma alternativa alla detenzione, ma non può essere l'unica. Assolutamente. Senti, ovviamente ce ne sono altre, forse la custodia... Gli arresti domiciliari o la detenzione domiciliare, a seconda del momento in cui vengono applicate, ma c'è l'affidamento in prova ai servizi sociali, c'è l'affidamento terapeutico per quanto riguarda quei soggetti che sono affetti da tossicodipendenza. Diciamo che c'è un'ampia possibilità di ricorso alle misure alternative, c'è il lavoro esterno, l'articolo 21, ci sono possibilità alla semilibertà, alla semidetenzione, ci sono ampie possibilità, il problema poi è concederle. Certo, assolutamente. Diciamo che, sempre facendo riferimento a quel report, la situazione è peggiore in questo momento a Villa Fastigi, perché leggevo dei 220 detenuti su una capienza di 153 e Montacuto, 309 presenze su una disponibilità di 256 posti. Poi parleremo della carenza strutturale, ma queste sono un po' le situazioni peggiori al momento. Sì, ho tra l'altro fatto anche una recente visita a Montacuto, vado spesso a Villa Fastigi, in stasso ad agosto, credo, sì, ai primi di agosto, e devo dire che ho trovato una struttura anche grazie al nuovo direttore e al nuovo comandante che si sta cercando appunto di apportare delle migliori all'interno della struttura Villa Fastigi. Però la situazione più, come dire, preoccupante è quella di Montacuto, perché accanto ad un sovraffollamento che tu ricordavi prima, assistiamo anche ad una carenza di personale, di polizia penitenziaria, su cui anche il garante, paradossalmente, ma poi non è un paradosso, deve soffermarsi. Perché, come dico spesso, il carcere è un ambiente simbiotico dove vivono due soggetti, un controllore e un controllato. È evidente che in questo ambiente se manca il personale che controlla, naturalmente quel poco personale deve sopperire alle carenze facendo dei turni particolari e facendo mancare, poi invece, faccio un esempio, a Montacuto abbiamo fatto, con l'aiuto dell'Università, forse ti riferisci anche, di quello parleremo. Ma no, con l'aiuto di un amico comune, che è Sandro Marazzi, agronomo, con un'esperienza infinita, ricorda che era stato all'Asinara addirittura. Sì, Sandro, che è un carissimo amico mio e tuo, ha voluto a tutti i costi, a Montacuto, in quella zona che è evocata al Rosso Conero, ha voluto la vigna, che è stata finalmente istituita, realizzata, circa un ettaro di vigna in una zona del Rosso Conero. Ecco, però per portare, perché è al di fuori del recinto penitenziario, occorre naturalmente del personale di Polizia Penitenziaria che controlli giustamente i detenuti che sono addetti. Se quel personale viene invece destinato ad attività di sicurezza all'interno del carcere, è evidente che quella vigna è... Qualsiasi discorso, praticamente, non può nemmeno essere iniziato. Con buona pace del nostro amico. Esatto, del nostro amico agronomo. Torniamo alle notizie, sempre dal nostro sito utvrs.it, ma rimaniamo alla cronaca, perché i militari della stazione dei carabinieri di Sant'Elpidammare, lo vediamo, hanno intercettato e deferito all'autorità giudiziaria un marocchino di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine. Il soggetto è stato bloccato dopo aver ceduto una sostanza in polvere di colore bianco, successivamente identificata come cocaina, ad un conducente di un'auto proveniente da macerata. La droga è stata sequestrata e l'acquirente ha ammesso di aver appena ricevuto la sostanza dall'extracomunitario. Il cittadino italiano è stato segnalato alla competente prefettura per detenzione di sostanza stupefacente e per uso personale poi la notizia anche di altre operazioni condotte dai militari dell'arma sempre nel fermano esattamente a Monturano e a Porto Sant'Elpidio. Dicevo, Giancarlo, di questa inadeguatezza strutturale delle carceri che in primis riguarda fermo sostanzialmente, che ospita attualmente 55 detenuti di cui 14 stranieri. qual è la situazione e si era parlato anche sugli organi di stampa della possibilità di creare una nuova struttura in provincia di Macerata che è l'unica provincia che è priva in questo momento istituti penitenziari ipotizzando anche la zona tra Piedi Ripa e San Claudio è un'ipotesi fattibile concretizzabile qual è lo stato dell'arte? Diciamo per chiarire ulteriormente questo che è stato anche oggetto di polemiche per quanto riguarda quello che io ho espresso la mia era un'idea più da avvocato che da garante è evidente che però il dato obiettivo è che Macerata è l'unica provincia che non ha una struttura un istituto penitenziario dopo la chiusura di Camerino per il terremoto e la soppressione di quella struttura allora teniamo presente che la provincia di Macerata ha in Macerata la sede del corte di Assisi la sede dell'ufficio di sorveglianza cioè ci sono delle circostanze che imporrebbero di prendere in considerazione la provincia di Macerata come sede naturale per la realizzazione di un istituto penitenziario è un'ipotesi del tutto però così attualmente utopica perché quando è venuto in visita il sottosegretario del Mastro delle Vedove agli istituti penitenziari di Ancona a mia specifica domanda ha detto che attualmente non esistono fondi nel PNRR per nuove strutture carcerarie quindi rimane un'idea su cui si è anche espresso anche favorevolmente il Ministro Nordio mi sembra che era intervenuto sul corso di interrogazione però chiaramente non ci sono attualmente fondi disponibili per quanto riguarda Fermo però quello sì quello è un istituto che va attualmente secondo me chiuso perché non è una struttura idonea cioè è un vecchio convento il peso degli anni forse è inadeguata ma secondo me deve essere restituito alla città per usi forse più consoni diversi non è un non ci sono gli spazi neanche perché vedi una delle cose importanti per i detenuti è far fare qualcosa nelle 24 ore cioè nelle 8 ore che hanno che è il dramma più grande per un detenuto il dramma più grande perché il tempo non passa mai e se non riesco a fare attività trattamentale vuoi per carenza di spazi vuoi per carenza di personale chiaramente la criticità e quell'aggressività che il carcere può tendenzialmente comportare aumenta ecco questo porta anche all'altra considerazione abbiamo sfiorato cioè l'assenza di agenti penitenziari secondo me anche pochi psicologi per quello che leggevo come assistenza per gli stessi detenuti e poi è inevitabile violenze addirittura leggiamo molto spesso dalle cronache il dramma dei suicidi in carcere diciamo che il dramma è un dramma fortunatamente a livello nazionale preoccupante fortunatamente dicevo per le marche nel senso che non riguarda noi certo però c'è stato in passato ci sono stati in passato in passato per avere veramente alcuni episodi di suicidi ricordo l'ultimo a memoria è quello di Ascoli a Marino del Tronto però con numeri molto più bassi rispetto alla media nazionale fortunatamente si sono abbassati perché inizialmente appena avevo assunto l'incarico però era anche vero che in quello era un periodo covid nel 2021 per cui con tutte le criticità che ha portato la pandemia fortunatamente questo numero di suicidi nelle marche si è abbassato anche grazie all'attività molto attenta del personale di polizia penitenziaria nonostante la carenza di personale psicologi che possano fare assistenza all'interno appunto degli istituti penitenziari sotto questo profilo mi piace ricordare e ringraziare sempre l'attività meritoria dei volontari del carcere che sono veramente encomiabili perché sopperiscono in parte alle carenze del personale sia dell'area trattamentale sia della polizia penitenziaria riuscendo a creare quel rapporto tra il detenuto e il mondo esterno ma anche sulle cose più banali molto difficile il lavoro di agente penitenziario perché non si tratta veramente soltanto di controllare si tratta anche di stabilire rapporti con persone sicuramente problematiche con tante problematiche l'una diversa dall'altra assolutamente è un lavoro ho visto recentemente a Montacuto molti giovani appena diplomati penso appena hanno superato appena assunti appena assunti e molti giovani è un'attività molto difficile perché naturalmente all'interno degli istituti penitenziari abbiamo soggetti i più svariati ultimamente stiamo assistendo anche al fenomeno che a me non è che piace molto delle sezioni psichiatriche veramente nelle Marche ce n'abbiamo solo una ed è ad Ascoli per cui quello è un altro problema su cui parlare anche molto perché poi vediamo anche delle immagini queste siamo a Villa Fastigi sì quella è Villa Fastigi devo dire che l'attività questo è il parcheggio esterno l'attività all'interno di Villa Fastigi devo dire è migliorata perché lo spazio che voi non vedete c'è uno spazio che è destinato all'orto sociale l'orto sociale è una di quelle realtà che ricordando l'amico Marozzi di cui si fece portavoce e promotore all'interno dei vari istituti dove era possibile tra l'altro è stato fatto Villa Fastigi recentemente ristabiliti a Montacuto abbiamo un orto sociale che è stato fatto nel 2021 sempre in collaborazione con all'epoca quindi con Marozzi come agronomo degli istituti penitenziari e con l'Assam e quindi con la regione a cui abbiamo partecipato anche noi come ufficio del garante e poi abbiamo l'orto sociale a Barcaione che è tra l'altro oggetto di un ultimo appuntamento che abbiamo avuto col collega Rotoni che è il presidente dell'ex Assam ora la sigla ha cambiato Arpam Arpam perché naturalmente in collaborazione con l'Arpam riusciamo a realizzare delle progettualità e di fare una agricoltura inclusiva per cui i prodotti ad esempio i prodotti di Barcaione che vengono poi utilizzati per destinati quindi al consumo interno quello che non riesce a consumare quindi quello che non serve all'interno viene ceduto gratuitamente alle persone che ne hanno bisogno certo andiamo avanti ancora con le notizie saltando un po' di palo in frasca stavolta perché Cronaca Maceratesi ci informa Marche la criminalità prova ad infiltrarsi nelle piccole e medie imprese nel Maceratese 777 operazioni sospette lo studio è stato redatto dalla Confartigianato nel 2022 il numero di quelle segnalate all'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ha toccato un record storico 155.426 una su quattro inoltre è stata considerata ad alto rischio tre invece le aziende confiscate nella regione alla criminalità organizzata la provincia di Macerata al 19esimo posto in Italia con 254,8 segnalazioni ogni 100.000 abitanti questo dal sito appunto Cronache Maceratesi mentre tornando a danzamarchi.it 20.000 firme in due giorni per salvare la casa di Joyce Lusso l'abbiamo detto la petizione è stata lanciata da una giornalista sarda su change.org e stiamo parlando dell'abitazione della scrittrice partigiana che si trova in località San Tommaso a Fermo e allora tu mi dai l'assist perché sei stato agli onori della cronaca per aver difeso Luca Traini lo ricordiamo tutti l'autore del famoso ormai raid a Macerata nel 2018 dopo l'uccisione della povera Pamela Mastropietro ecco lui è veramente un caso esemplare di persona tu l'hai definita trasformata credo rispetto a 5 anni fa con questa dura o non dura esperienza carceraria che adesso mi dirai beh effettivamente rispetto al 3 febbraio del 2018 quando l'ho incontrato per la prima volta subito dopo i fatti di Macerata e ad oggi Luca Traini è una persona completamente diversa viva Dio continuo a sostenere che secondo me al di là di quello che la sentenza poi è stato detto è stato scritto Luca Traini era una persona all'epoca dei fatti disturbata il carcere nel carcere ha ricevuto le visite e le cure di cui aveva bisogno non dimentichiamo che Luca Traini è stato più di un mese in una struttura psichiatrica a un reparto psichiatrico a Parma se non ricordo sì forse a Parma e quindi attualmente è a Barcaione a Barcaione si sta occupando di quell'orto sociale di cui abbiamo detto tra l'altro va anche ai mercatini del mercoledì se non ricordo male ad Ancona a commerciare insieme ad un altro volontario Carletti che è persona storica dell'agricoltura inclusiva veramente ci sarebbe da fare un monumento solo a lui a Carletti e a Marozzi perché entrambi hanno portato del loro all'interno di un carcere l'umanità soprattutto è la dignità con cui trattano hai detto niente e quindi Luca è una persona completamente diversa sotto questo punto di vista e grazie a Dio e con con piacere ho constatato personalmente quanto il carcere se vissuto in una certa maniera ma anche qui anche Luca ci ha messo del suo notevolmente del suo possa trasformare le persone in meglio senti poi chiudiamo l'argomento carcere volevo fare un accendo anche alla cosiddetta residenza per le misure di sicurezza perché attualmente nelle marche ne abbiamo una soltanto ed è a Macerata Feltria e anche lì siamo molto lontani beh diciamo che da quello che dovrebbe essere sì qui però dobbiamo anche come dire contestualizzare il perché la Rems di Macerata Feltria ha solo 20 posti 20 posti a disposizione mentre attualmente c'è un'occupazione di 25 internati e 7 in lista d'attesa se non ricordo male il perché nasce da un vecchio al momento della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari detenuti all'interno di quelle strutture in tutta Italia marchigiani ce ne erano solo 4 5 forse questo significa da un lato che la popolazione che ha queste problematiche gli internati che sono saliti da 5 a 25 naturalmente con un aumento del 500% circa questo sta a significare che forse è un problema che è stato sottovalutato in passato a volte noi avvocati anche con Luca poi tra l'altro Luca Traini avevo tentato la strada dell'infermità di mente del vizio di mente vizio parziale vizio totale di mente attualmente questi vizi vengono riconosciuti in maniera esorbitante diciamo in maniera eccessiva rispetto a quella che è la capienza questo comporta di conseguenza quello che dicevo prima cioè l'istituzione di quelle sezioni psichiatriche all'interno di Marino del Tronto del carcere che naturalmente non è non è il luogo deputato alla cura di un paziente psichiatrico sotto questo profilo però mi piace ricordare una delibera dell'anno scorso della giunta regionale la la 950 del 2022 dove la regione si è impegnata attraverso il ricevimento di fondi nazionali a reperire situazioni quindi organizzative diverse rispetto alla REMS che possono essere le SR più uno cioè le residenze psichiatriche particolari piuttosto che la sezione psichiatrica dentro un carcere dentro un carcere andiamo avanti con le notizie andiamo a QDM per la Vallesina nella giornata di ieri ci informa questo sito al termine dell'attività investigativa personale volanti del commissariato denunciava in stato di libertà un 22enne per il reato di insolvenza fraudolenta la vittima in sede di Querela riferiva di essere un tassista a Porto Recanati in possesso di regolare licenza nel mese di febbraio di quest'anno mentre era in servizio veniva contattato sul suo cellulare da un utente da un utente per un trasporto da Civitanova a Iesi richiesta la somma di 160 euro la richiedente che viaggiava unitamente ad un'amica cubana ribatteva di non avere con sé i soldi ma che all'arrivo a Iesi la zia la attendeva gli avrebbe consegnato la somma all'arrivo al terminale del Pullman la donna cubana accusava un malore allontanandosi subito mentre la 22enne dopo vari tentativi di chiamata della presunta zia rassicurava il tassista di essere una persona seria tassista che pertanto le inviava sul cellulare il pagamento di euro 160 con l'intesa che una volta giunta in casa la stessa avrebbe provveduto nei giorni a seguire tuttavia la donna risultava irreperibile gli accertamenti espletati sulla veridicità dei dati anagrafici e l'individuazione fotografica operata dalla vittima permettevano di individuare la donna e denunciarla quindi in stato di libertà l'autorità giudiziaria competente per insolvenza fraudolenta parliamo invece diffusamente del tuo incarico di difensore civico come si concretizza nella realtà e soprattutto quali sono le maggiori motivazioni e perché i cittadini ti contattano e contattano il tuo ufficio la maggiore attività che viene svolta dall'ufficio riguarda il diniego di accesso agli atti questa è una cosa che come difensore civico naturalmente ultimamente ci stiamo anche occupando di salute di disabilità specialmente la disabilità minorile mi sono occupato di vaccinazione durante il periodo del covid quando c'erano dei contrasti tra genitori chi voleva la vaccinazione e chi no e fortunatamente all'epoca c'era il provvedimento del tribunale dei minori per le marche che aveva deciso che in quel caso prevalesse addirittura la volontà del minore se era favore ora la vaccinazione altrimenti il genitore prevalesse la volontà del genitore che intendeva vaccinare il minore certo concretamente come si fa a contattare il tuo ufficio perché abbiamo parlato di tante cose però io voglio contattare l'ufficio è uno dei pochi uffici della regione che ha possibilità di accesso al pubblico quindi noi siamo aperti fino al venerdì negli orari di ufficio classici negli orari di ufficio classico a volte anche nel pomeriggio breve appuntamento ma abbiamo un numero telefonico abbiamo un'utenza telefonica e abbiamo naturalmente noi normalmente il nostro modo per come dire rivolgersi al garante attraverso il sito la pagina la mail garante diritti ghiocciola regione punto marche punto iti attraverso la segnalazione poi la segnalazione viene istruita a seconda del caso della difesa civica dall'ufficio che si occupa della difesa civica oppure per quanto riguarda i minori o i detenuti ci occupiamo anche di istruire determinate pratiche ecco a proposito di minori leggevo anche una particolare attenzione rivolta all'handicap verso i minori diciamo che ci sono stati anche dei progetti messi in cantiere con la collaborazione di istituzioni ed associazioni un po' su tutto il territorio regionale sì devo dire qui ringrazio sempre il consigliere regionale Anna Menghi che di fronte a un progetto che prevedeva l'istituzione il garante regionale per le disabilità ha opposto un veto dicendo non c'è bisogno di farlo perché abbiamo il garante regionale i diritti della persona che si occupa di questo e quindi attraverso questa prima volontà politica e quindi di affidarmi anche a questo settore ho iniziato ad occuparmi anche delle disabilità vuoi perché ho il presidente dell'Anfas Macerata il mio carissimo amico Marco Scarponi e quindi già prima mi interessavo le problematiche per quanto riguarda l'Anfas successivamente come garante abbiamo avuto l'opportunità di intervenire con numerosi progetti l'ultimo dei quali in ordine tempo aver fatto una convenzione con la Conero Golf Club che praticamente per corsi di golf per bambini con disabilità mentre per quanto riguarda altre progettualità ricordo adesso quella con a Camerano con credo l'associazione Orizzonte se non ricordo male che si è conclusa quest'estate in maniera molto proficua annumana con una corsa e una giornata molto particolare allora rimaniamo in tema estivo perché a Pesaro praticamente l'estate secondo il sindaco finirà il primo ottobre una cosa molto interessante di cui poi approfondiremo nella seconda parte prima di salutare l'avvocato Giancarlo Giulianelli il famoso articolo 27 della Costituzione recita che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato domanda facile facile quanto siamo lontani? Hai una domanda di sempre? No diciamo che diciamo che io vedo sempre il bicchiere e mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto diciamo che sono stati fatti passi in avanti però dobbiamo lavorare ancora molto specialmente inserendo il personale dell'area trattamentale attualmente abbiamo una carenza incredibile anche sotto questo profilo mi piace ricordare sempre l'area trattamentale per quanto riguarda i detenuti l'ultima dovremmo andare poi alla stipula della convenzione con la federazione italiana gioco calcio il Lega Nazionale di Lettanti e anche con l'apporto poi del dottor Luna del CONI faremo una lanceremo una campagna all'interno degli istituti penitenziari per insegnare il gioco del calcio però le regole basilari gli schemi e tutto quanto per poi arrivare a una giornata conclusiva dove faremo una sorta di selezione all'interno nazionale chiamiamola così marchigiana della popolazione tra i detenuti che si scontrerà con la nazionale degli olimpioni italiani io ricordo adesso non mi sovviene dove che in un istituto penitenziario italiano era stata formata anche una squadra che partecipava ad un campionato federale a Roma a Roma esatto non so se esiste ancora questa esperienza a Roma però le cronache se ne occuparono anche diffusamente di questo aspetto a Roma tra l'altro la mia amata maceratese giocò in quel campionato che fosse la serie D o C esatto no la serie D credo che erano i direttanti erano ancora i direttanti non ricordo il nome però era una squadra di Astrea Astrea esatto che appunto rappresenta un'esperienza molto ci fu un episodio poi particolare la dottoressa Tardella che non fu ammessa al capo o qualcosa del genere non me la ricordo perché era molto singolare questa cosa esatto grazie Giancarlo Giulinelli grazie a te grazie tante garante delle marche per i diritti alla persona abbiamo credo sviluppato molti argomenti e soprattutto argomenti di cui si parla troppo raramente a mio avviso grazie buon lavoro noi ci vediamo per la seconda parte della nostra trasmissione ed eccoci gentili telespettatori alla seconda parte di fatti e commenti dalla segna stampa quotidiana di TVRS dopo aver lungamente parlato con l'avvocato Giulinelli su diritti e non solo il garante per la regione Marco occupiamoci di notizie occupiamoci di quello che abbiamo accennato in precedenza questa notizia particolare che ci giunge da Pesaro e che troviamo sul sito viverepesaro.it a Pesaro l'estate non finisce qui ieri ho firmato l'ordinanza che prevede la proroga al primo ottobre 2023 della fine della stagione balneare ad annunciarlo il sindaco Matteo Ricci che spiega le temperature sono ancora gradevoli i pesaresi hanno ancora voglia di godersi il nostro mare e la città è frequentata ancora da tanti turisti per questo il comune di Pesaro ha accolto subito la richiesta della regione Marche di allungare la bella stagione dando la possibilità agli operatori economici di rimanere operativi fino alla fine del mese recuperando i giorni persi a maggio a causa delle piogge e d'altronde ripetiamo il clima di questi giorni risulta essere ancora particolarmente favorevole torniamo invece alla cronaca con una notizia che ci giunge da Ancona today.it volano parole grosse e poi colpisce il vicino con una tavola di legno e lo manda in ospedale leggiamo nel dettaglio la notizia colpito da una tavola di legno durante una lite è successo ieri pomeriggio a Sappanico una località nel comune di Ancona in litigio secondo quanto ricostruito dai poliziotti intervenuti e scaturito da problemi di vicinato tra un settantenne ed un ottantenne uno dei due è stato colpito con la tavola del rivale ed è caduto a terra è stato necessario anche l'intervento del 118 di trasporto in ospedale la tavola è stata nel frattempo sequestrata a scopo cautelare eccolo qua la notizia nel dettaglio ripetiamo siamo a Sappanico una località del comune di Ancona torniamo invece a utvrs.it vedete via la fascia dentro il grembiule Marco Fioravanti parliamo del sindaco di Ascoli Piceno sfiderà altri sindaci ai fornelli poi abbiamo la notizia dell'allarme tra i più giovani relativamente alla ludopatia ed è un problema sicuramente di grandissima gravità poi cambiando argomento andiamo a cronacepicene.it Ascoli al Del Duca oltre 6.600 spettatori di media nelle due gare interne nonostante i 600 abbonamenti in meno la panoramica dell'evoluzione degli abbonamenti nelle 27 stagioni di Serie B i 3.328 attuali portano al 12esimo posto nella classifica all-time Picchio Village ripresa la preparazione in vista del match contro la Cremonese che ha cambiato nel frattempo allenatore perché Stroppa ha preso il posto di Ballardini questa è una notizia peraltro imprevedibile poi c'è la statistica con tutti gli abbonamenti della stagione dell'Ascoli vedete che il picco di abbonati al club bianconero è stato toccato per quanto riguarda la Serie B nella stagione 77-78 con 5.055 tessere mentre quest'anno siamo arrivati a quota 3.328 Ascoli che ripeto sarà atteso sabato una trasferta sulla carta molto difficile appunto sul campo del Cremonese andiamo o meglio torniamo al sito ansamarchi.it vi abbiamo detto di questa vera e propria petizione per salvare la casa di Joyce Lusso a San Tommaso di Fermo ma la notizia del giorno infiorescenze di cannabis e articoli perfumatori non conformi parliamo di una operazione della Guardia di Finanza di Pesaro che hanno sequestrato oltre un chilo di infiorescenze di canep indiane circa 8.000 articoli perfumatori di cui 5.300 trita tabacco e fertilizzanti per canapa indiana privi delle informazioni minime previste dal codice del consumo e altri 2.600 tra cui cartine arrotolate senza tabacco questa è la foto appunto che illustra l'operazione che è stata condotta dalla Guardia di Finanza stiamo parlando della Guardia di Finanza della provincia di Macerata a Urbino il festival dei sapori locali e bio al via tema biofest oggi c'è stata una conferenza stampa presso la Confcommercio Marche Nord il collegio Raffello di Urbino ospiterà sabato prossimo 30 settembre e domenica primo ottobre tema biofest il festival dei sapori locali e bio a cura del distretto bioterra marchigiane saranno due giornate ricche di conferenze ripeto parliamo del 30 settembre e primo ottobre cooking show mostra mercato bio degustazioni di vine e birra ma anche musica dal vivo e laboratori per i più piccoli un vero e proprio salone del gusto che valorizzerà i sapori del territorio l'evento come vi abbiamo anticipato è stato presentato presso la sede di Confcommercio Marche Nord e introdotto da Egidio Cecchini presidente della Confcommercio Urbino si tratta di un evento inedito un segnale di concretezza e cooperazione che vede tantissimi operatori del settore tutti insieme per due giorni all'interno del collegio Raffaello dice Sara Tomassini presidente del distretto Bio Terre Marchigiane in queste due giornate avremo tante attività diverse musica compresa ripeto ad Urbino sabato 30 settembre domenica 1 ottobre il tema Bio Fest con la presentazione oggi presso la sede di Confcommercio Marche Nord a Pesaro una vita da social in piazza del popolo la campagna educativa itinerante della Polizia Postale e del Ministero dell'Istruzione il decorso 18 settembre 2023 è ripartita da Forlì una vita da social la più importante e imponente campagna educativa itinerante della Polizia Postale e del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito del progetto Generazioni Connesse per la sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli della rete per i minori un'iniziativa che parla di sicurezza online social network e cyberbullismo e che quest'anno si arricchisce anche con approfondimenti sull'educazione stradale e contrasto ad ogni forma di discriminazione da Forlì a Caivano attraverso tutto lo stivale la campagna toccherà anche quest'anno oltre 60 città italiane e come detto tra queste anche la città di Pesaro per quanto riguarda la giornata odierna torniamo al capologo di regione il Natale di Silvetti un grande evento per Capodanno con presepi nuove luminari ed il porto protagonista torniamo quindi ad Ancona Today con questa notizia un grande evento per Capodanno presepi nuove luminari iniziative settimanali che incentivino gli acquisti nei centri commerciali naturali e il porto come uno dei protagonisti delle festività natalizie l'amministrazione Silvetti sta già pensando al Natale e si metterà al lavoro appena passata la notte bianca per ora si tratta solo di un'idea generale che sarà affinata però nelle prossime settimane quel che è certo è che verrà data rilevanza non soltanto all'aspetto mondano ma anche a quello commerciale culturale spirituale ed evocativo celebrativo negli ultimi anni il Natale è stato partecipato c'è però un vulnus da riempire il Capodanno ha affermato l'assessore ai grandi eventi Angelo e Leantonio noi rivoluzioneremo quanto fatto finora entro la fine del mese concluderemo gli incontri con le agenzie promoter per capire quali artisti sono disponibili e il cascia che chiedono insomma a Pesaro si parla ancora di estate e di prolungamento della stagione balneare sino al primo ottobre mentre ad Ancona siamo già orientati verso le festività natalizie ed il Capodanno e comunque è così addio mamma Romina informatrice farmaceutica ritorniamo al sito utvrs.it lutta d'offida suo paese d'origine ma anche nella vicina Teramo dove viveva con la famiglia Romina Tassotti informatrice farmaceutica qui vediamo una foto è morta a 47 anni a seguito di un male lascia il marito Marco infermiera all'ospedale Teramano e due figli Lorenzo e Marta la battaglia contro la malattia è stata dura e lunga e proprio quando sembrava di essere vinta la patologia si è manifestata di nuovo con aggressività fino a portare via per sempre Romina relativamente allo sport ricordiamo che si sono giocate le gare della quarta giornata del campionato di Serie C Girone B con l'Ancona che ha da poco concluso il suo match sul campo di Cesena le partite del tardo pomeriggio con il derby tra Fermanere Canatese e con il match della Vispesero che ha giocato al Tubal di Drianati contro la Virtus Sentella ma di tutto questo parleremo ovviamente nella prima edizione del nostro telegiornale di domani e vi ricordo sempre a proposito di sport l'appuntamento di domani alla Vitri Frigo Arena perché torna il Memorial Alfonso Ford per ricordare il grande campione scomparso per la leucemia nel 2004 e ritorna con una partita di grandissimo cartello di grandissimo spessore tecnico quello tra la Carpegna Prosciutto Basket Pesero e l'Alba Berlino quindi una delle formazioni più competitive a livello internazionale ed europeo relativamente alla pallacanestro ma soprattutto è un modo per preparare la stagione con il via ufficiale al campionato di Serie A che avverrà il primo ottobre ma soprattutto lo ricordo ancora per omaggiare quel grandissimo campione e quel grandissimo uomo che è stato Alfonso Ford che la leucemia ha portato via davvero troppo troppo presto siamo in conclusione di questo appuntamento con fatti e commenti la rassegna stampa quotidiana in onda sul canale 13 di TVRS alle 23 e in replica alle 7 e 10 della mattina domani a condurre ci sarà Luca Falcetta con tante notizie e tanti nuovi argomenti grazie per essere stati con noi e buonanotte a tutti grazie per la visione